Voi avete presentato un'interrogazione che riguarda un po' una sorta di bocciatura nei confronti di questi punti di informazione che secondo voi non hanno dato risposta ai turisti che però effettivamente ci sono stati ad Arezzo. Sì, diciamo che forse è una bocciatura più in generale del ruolo della Fondazione Arezzo in Tour perché non è solo una questione di mancanza o di scarsità dei punti di informazione turistici ma è anche un problema più complesso per esempio anche della mancanza dei bagni pubblici. Abbiamo rilevato più volte questo problema ma in questi anni l'amministrazione comunale non ha provveduto a migliorare questa grave situazione e se una città vuole essere turistica senza altro deve partire dalle basi e la presenza dei bagni pubblici e dei punti di informazione turistica sono assolutamente la base. Io credo che i consiglieri abbiano dei cattivi informatori perché quando c'erano loro nella giunta Fanfani il capitolato tecnico parlava di 1.204 ore di apertura dei punti di informazione quindi per circa sei mesi stavano aperti massimo due ore al giorno quindi il turista un po' come giocare alla lotteria doveva essere fortunato di trovarli aperti. Già nel 2017 il capitolato della nostra giunta l'ha portati a 3.100 oggi grazie alla fondazione stiamo aperti per 3.800 ore quindi il triplo di quello che veniva fatto non più di sei anni fa quindi non capisco veramente questa dichiarazione anche perché c'è un progetto di ampliarli c'è un progetto di creare il famoso punto di informazione diffuso insieme privati però ad oggi i punti di informazione stanno aperti uno per sei ore al giorno tutto l'anno compresi anche ovviamente i periodi più importanti e soprattutto tante volte abbiamo aperto anche le loggie vasari perché è strategico soprattutto come appoggio per gli eventi che ci sono in piazza per il periodo natalizio e tutto quindi un grande salto in avanti anche perché prima una città come la nostra sì probabilmente c'erano meno turisti è vero ma non si poteva permettere di tenere i punti di informazione aperti due ore. Che bilancio si traccia troppo presto per quest'estate? No l'estate è andata molto bene, luglio e agosto ci stanno dando dei segnali molto forti probabilmente anche migliori dello scorso anno che era comunque un anno buono ovviamente un po' come tutta Italia abbiamo sofferto maggio e giugno perché sono stati due mesi caratterizzati da un brutto tempo e quindi comunque tante disdette da parte dei turisti però già ad oggi credo che il bilancio sia già sulla linea dello scorso anno che ricordo è stato l'anno comunque dei record dove abbiamo battuto un po' tutti i record di presenze turistiche.